Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo episodio della mia carriera su FIFA 23 con il Monza Vi ricordo di lasciare un like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Perché molti vi vedo, guardate i video ma non vi iscrivete Iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti Detto questo ragazzi ci siamo lasciati con la classifica che è in questo modo Quindi settimo posto però con Atalanta e Fiorentina lì praticamente a meno 1 e meno 2 da noi C'è da dire che noi a nostra volta siamo a meno 3 dal Napoli e a meno 4 dalla Roma che è quinta in classifica Proibitivo invece l'aggancio al quarto posto che per questa stagione non sembra essere cosa nostra Però dobbiamo comunque impegnarci per provare a tenere e conquistarci un sesto barra settimo posto Che sarebbe fantastico visto che ci permetterebbe di andare in Europa Cosa che non era preventivata a inizio stagione Queste le partite che ci aspettano quindi sicuramente questa puntata Bologna, Cremonese e Napoli Poi non manca neanche tantissimo in realtà proprio la chiusura della stagione Quindi in realtà praticamente mancano poi altre 5 partite oltre a quelle che facciamo oggi Quindi ragazzi direi che ci siamo, ci siamo Non manca tanto a sapere appunto se riusciremo, se riusciremo nella nostra impresa Bene ragazzi ci siamo, Bologna-Monza Bologna-Monza non c'è, vedo che non c'è Arnautovic Però c'è questo Martinez che non so quale Martinez sia ma sarà un Martinez forte Intanto ha squalificato Marlon Ai 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 ragazzi questa non me la ricordavo È stato effettivamente ammonito con un grande fallo tattico nel finale di Inter-Monza Che però ci costa adesso questa squalifica Allora qui è un bel problema nel senso che è vero che abbiamo Ogbonna Adesso io metto Ogbonna poi ci ragioniamo Però il discorso è che sono entrambi molto lenti Ogbonna e Boateng O provo con Medel che forse è un po' più rapido Oddio dai valori non mi sembra più di tanto Però potremmo provare A giocare con Medel, vediamo un po' Sì è più veloce sicuramente di Boateng Non di tanto, è un 53 di velocità Aggressività, accelerazione però ne ha di più Dai proviamo a giocarcela con Medel Difesa rimane quella Torna Caprari Come giusto che sia Io darei la chance anche a Ranocchia E a Sensi che non hanno giocato la scorsa partita Boateng, secondo me Continua a giocare Mi spiace che sta giocando poco l'Azetic Però devo fare delle scelte in questo momento Perché è troppo importante mantenere Mantenere le distanze Sicuramente proveremo a inserirlo Partita in corso però Danimota è in forma In questo momento ci serve vincere Ci serve fare il filotto Per provare a distanziare quelle dietro Anche perché poi abbiamo il Napoli È la fine puntata Dai ragazzi Dai ragazzi Dobbiamo scendere carichi Dobbiamo scendere carichi Perché queste sono partite Che nascondono tante insidie Dai Boisì Jeremy Boga 1-0 All'undicesimo La sblocca di testa Boga Con l'inserimento Col taglio in aria Dall'esterno E arriva il 2-0 Di Sensi Buona azione Buona azione Siamo entrati colpiglio giusto In questa partita Almeno fin qui Bello L'assist di Caprari Non ci può arrivare nessuno Se non proprio Sensi 2-0 Sisoko Palla per Beruato Dentro ancora A cercare il movimento Se ne va alla grande Dentro ancora Il tiro 3-0 Che bel calcio Come entriamo bene Ranocchia Che sta diventando un bel centrocampista Lo sento già cresciuto Giocandoci Bella la finta qui Di Dani Mota Che poi mette dentro questa palla Il Ranocchia non sbaglia E pur giocando poco I suoi golletti Gli ha anche fatti Bogà come un treno Poi la rimette dietro Porta vuota Per Caprari 4-0 Grande mentalità Grande mentalità Per questo Monza In questo finale Finale di stagione ovviamente Gran palla di Dani Mota Che rinuncia alla gloria personale Perché vede un compagno Meglio piazzato Segna anche l'Asetic Partita questa Che sul 4-0 Adesso 5 Serve soprattutto Anche per fare Acquistare autostima A questi giocatori giovani Tra cui appunto l'Asetic La nostra attaccante del futuro Bella questa combinazione E' bravo a metterla all'incrocio Adesso direi Esposito Così ci godiamo Anche qualche novità Nel finale Attenzione da lì Segna Esposito Fatto di tutto Per fargliela arrivare Sta palla 6-0 Rotondo Segna anche Il pupillo Esposito Della primavera Che trova il sigillo E pian piano mette Mattonelle Sulla sua crescita Bondo Che gli dà questa palla E lui bravo Come a calcetto Quasi di punta Io direi ragazzi Questo finale Possiamo anche simularlo Perché ormai Questa partita Poco da dire 6-0 Andiamo avanti Avrei giocato Fino alla fine Ma dato che ha segnato Esposito Direi che Avevamo raggiunto Anche l'ultimo scopo Che aveva questa partita Marlon ha scontato La squalifica Quindi può tornare Al centro Della nostra difesa Perché ci serve Perché ci serve come il pane Conferenza Pre-Cremonese Cremonese Che non rievoca Ricordi felici Ai milanisti Lotteremo Fino alla fine I giocatori Non devono pensare Agli avversari Proveremo A vincere di nuovo Diamo uno sguardo Veloce Anche alla classifica E poi Buttiamoci Nella sfida Monza sesto Tanta roba Ragazzi Però il problema È che le altre Sono tutte lì Cioè basta un passo falso E ne hai tre dietro Che possono superarti Quindi Dobbiamo tenere 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 Quinto posto A un punto Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Andiamo A Cremona Cazzo Hanno le maglie O giocano bianchi Loro E noi No E noi rossi Direi di sì In questa partita Potrei anche rischiarmela Far partire L'Asetic Dal primo Ogbonna È in forma Marlon Non troppo Ma è stato fuori Giocherà la coppia Ogbonna Medell Incredibile E Non è in forma Marlon Metterò la partita In corso Cragno In queste ultime partite Insomma Stiamo subendo Pochi gol Quindi Vaklik Continuerà a sedere In panchina In questa partita Anche se in realtà Avremmo dovuto Puntare di più su di lui Visto che l'anno prossimo Sarà lui il titolare Però vabbè Ormai queste partite Sono importanti Dobbiamo fare i punti Non stiamo a guardare Queste sottigliezze E per il resto Direi che Sono questi Quelli che giocano Bondo Non sarebbe male Portarcelo dietro Sempre difficile Fare delle scelte Vabbè Lasciamo a casa Marlon Che non è in forma Perché Potrebbe addirittura Riposarmi un No però Non ce la faccio Ragazzi A tenere fuori Sissoko Perché devo fare Come Pioli Che fa il turnover Se sono in forma Giocano E i nostri Per ora Sono in forma Giochiamo Medel Che si sta conquistando Anche il posto In queste ultime partite Incredibile Tutto esaurito A Cremona Tra l'altro Dai ragazzi Come sempre Bisogna partire Con l'atteggiamento Giusto Bella questa giocata Di Lasetic E arriva subito Il gol di Lasovic Che bella Questa giocata Di Lasetic Che protegge Si gira Alza la testa E la mette Lì a Lasovic Che fucila In porta E si fa sempre Trovare pronto Gran pall Bella Bellissima Dritto per dritto Lasovic Che ne fa un altro Grande rinforzo Di gennaio Ha rubato Definitivamente Il posto a Molina Che partirà A fine stagione Ma dopo il mercato Non ha praticamente Più visto il campo Lasovic Per Lasetic Che la dà Sissoko Che è Rotto Fogara Mette con facilità 2-0 Però a me è preoccupato Sissoko Soprattutto Visto che siamo In vantaggio di due Ci manca solo Che non ce l'abbiamo Per il finale Di stagione Pessina Palla per Rovella Rovella Dall'altra parte Dove arriva Birindellone Che la mette Dentro Si siedono tutti Mamma mia Che spettacolo Pessina Per il 3-0 Monza È così Così che deve andare Perché è una squadra Sulla carta inferiore Ma non si sa mai E invece stiamo Approciando bene Fin qui Qui geniale Lasovic Che poteva tirare Ha fatto sedere Mezza difesa E ha servito Il capitano Pessina Guarda lì si scontra Un difensore Portiere Molto bello Ma porca Eva Guarda te Se devo subire sto gol A rovinare anche il Clean sheet Ma guarda te E qui non irreprensibile Anche Medel Questa palla era già sua È stato anche sfigato Ma io dico Ma cragno Ma come si fa A subire gol Sul tuo palo lì Oddio Santo Appena dico Che sta giocando bene Mi viene voglia Di rimettere Vaklik Gol Sì Pessina ancora Gran giocata ancora Di Lasovic Questo Ogni volta Rimarco Ottimo Più disattenti Di altre volte Guarda come siamo Aperti Mamma mia Che noia Riaprire Partite già chiuse Con sto cazzo Di FIFA Che non si arrende La Cremonese Che deve dire la sua Guarda come siamo Cioè Senza motivo Aperti Ma perché Perché siamo così aperti Siamo 4 a 1 A Cremona Ma che motivo C'è di essere così aperti Sto giocando col difensore C'è di essere così aperti Che sfuma Altro possesso regalato Occasione importante Allora che viene allontanato Poteva essere un'azione pericolosa Ancora Oh Segna Rovella Gole importante Per chiudere qui Sta faccenda Guarda come si è scoperti Ma non ci voglio credere Ma che due coglioni Sto Cremonese Squadra che inizia A starmi sul cazzo Mamma mia Oh Non muoiono mai E noi polli Che continuiamo A concedere gol Qui poi sta palla Dove è passata Lo sa solo lui Tre giocatori davanti Alla fine passa la palla Vabbè Diamo fiducia Allo stesso Esposito Ah porca troia Volevo farlo entrare Con il vantaggio Bello sicuro Finisce Un inutile 5 a 3 Con la Cremonese Lo poteva finire Anche 5 a 0 Ma hanno dovuto Metterci quel pepe Inutile Ma abbiamo vinto Comunque Contento anche Di aver dato Minutaggio Esposito E l'Asetic Guarda Franti Come se si giocassero La Champions Loro Quindi 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 Vediamo un po' Se si è mosso qualcosa Il problema Che qui Devono giocare Ancora le altre Allora facciamole giocare Mi interessa Allenare la Nazionale In questo momento 5 giorni out Sissoko 5 giorni Vuol dire Dovrebbe rientrare Già per la partita Fortunatamente Sì Anche perché contro il Napoli Senza Sissoko Ragazzi Abbiamo visto Con Bondo In campo Con la Cremonese Ne abbiamo presi 3 E allora Monza 5 Tanta roba Abbiamo il Napoli Allo spalle E' uno scontro diretto A tutti gli effetti Col Napoli A questo punto E poi però Roma e Atalanta Sono comunque lì A meno 1 Meno 2 Cioè Quindi comunque Dobbiamo Dobbiamo continuare A spingere Partita col Napoli Pericolosa Perché Atalanta E Roma Sono lì in agguato Ma noi faremo Il nostro calcio Roma che giocherà Con la Cremonese Che è fortissima E l'Atalanta Con l'Udinese Detto questo Poi lì davanti C'è il Milan Che alla fine È a meno 5 Quarto posto A meno 5 Però mancano Mancano poche partite Sarebbe già tanta roba Riuscire a mantenere Questo quinto Barra sesto posto Va bene Pronti per la partita Con il Napoli Partita difficile E loro sono lì Dietro di noi Pronti a romperci Le palle Ci siamo ragazzi Bogà Che palla Per l'Azovic L'Azovic Che l'appoggia Come una carezza Bellissimo Sono furioso Sono curioso di vedere Se la posizione regolare Ma sembrerebbe di sì 1-0 Monza Che bella Questa palla di Bogà Dentro per l'Azovic E l'Azovic D'esterno La mette lì Nell'angolino Che palla Gli mette Bogà Si trova questa squadra E come Ancora L'Azovic Dai di qui Bella L'Azovic Il pazzo L'Azovic Pazzovic Comunque mi fa tutto il fascione L'Azovic Bravo Birindellone Dai andiamo Dai Sissoko Dai Sissoko C'è spazio C'è un'autostrada Se la vuole prendere Dani Mota Dani Mota Rete 3-0 Ma che monza è Ma che monza è Va Sotto la sua curva Bella Questa transizione Con Sissoko Che gliela dà Con i giri giusti E lui Che appoggia Con una morbidezza Che neanche i rotolori In regina 3-0 Siamo carichi Siamo carichi Come non mai Per questo finale di stagione Annusiamo l'Europa La vogliamo L'abbiamo promessa Ai nostri tifosi Andiamo ancora noi C'è Boga Dall'altra parte Ci lasciano le autostrade E va ancora Dani Mota Ancora Dani Mota Ancora Dani Mota 4-0 Inaspettato Questo risultato Il Napoli Si è completamente Sbilanciato in avanti Appena subito I primi due gol E ci ha lasciato Le autostrade Per farne altri due Finisce qui Questa ragazzi Non dico una grossa ipoteca Sulla nostra Europa Però insomma È una vittoria pesantissima Contro una diretta concorrente Che riusciamo a staccare A più 4 E insomma Mica male Scontro diretto Perché c'era Caprari Acasciato A terra Perché non ha giocato Dani Mota Sempre più idolo E d'altronde adesso In questo finale Stanno giocando Soprattutto quelli Che rimarranno Caprari è un altro Che non penso Rimarrà Considerato che Scadrà il prestito In più non è Proprio un'ala Quindi in questo modo È un po' adattato Quindi a quel punto Potremmo provare a prendere Qualcosa di diverso Vinciamo meritatamente 4-0 Altro clean sheet Finalmente Vediamo anche i clean sheet In questa squadra Che sembravano impossibili Un'ottima prestazione Del complesso Ma anche di Lasovic Bisogna dirlo Abbiamo i giocatori giusti Diciamo sempre la stessa cosa Il risultato è troppo severo Sempre con umiltà Allora ragazzi Facciamo avanza Così se qualcuno deve giocare Gioca E vediamo la classifica Quinti ragazzi Siamo lì quinti A meno 5 dal Milan Quarto posto Che in questo finale Col senno di poi Ad aver sprecato Qualche partita in meno Non era neanche così impossibile Però sarebbe stato forse Oddio Ancora non è detta L'ultima parola Però ci vuole un crollo O di Milan o di Inter Ma in ogni caso Forse la Champions Sarebbe anche un po' troppo Per questa squadra Che poi non avrebbe i mezzi Per giocarla giustamente Quindi a noi ci basta E avanza una bella Europa League Speriamo di riuscire a centrarla Perché ancora Comunque in realtà Siamo lì Con l'Atalanta Attaccata al culo Il Napoli Pensavo più 4 Invece più 3 Però comunque Un buon più 3 Sul Napoli Con lo scontro diretto A favore E poi c'è la Roma E via dicendo Comunque per ora Grande grande Monza Che è lì A ridosso delle milanesi Con la Juve Che vola In contrastata Per lo scudetto Giusto Un attimo Vedrei Il calendario Con Mamma Ci aspetta la Juve Porca troia Non mi ricordavo Che non ci avevamo ancora giocato La Juve Romperà le palle Poi Spezia Salernitana Lecce Roma Per il gran finale Beh oddio 5 partite ancora Dove può succedere Di tutto Speriamo di riuscire A mantenere Quel che di buono Abbiamo fatto E poi comunque Ce lo meritiamo Insomma Siamo stati lì Praticamente Per quasi Tutta la stagione A parte l'inizio Un po' così Quindi Direi che ce lo meriteremmo Come al solito Giusto così Per rifarmi gli occhi Volevo riguardare Un po' La crescita Dei miei giocatori Intanto di Gregorio Ridi e scherza Sta giocando All'Ajax Ed è un 77 Ottimo Ottimo Per la prossima stagione È tanta roba Avere un portiere così giovane Che sta crescendo Potrebbe addirittura Alternarsi con Vakli Che poi diventare Titolare lui L'anno prossimo Poi Abbiamo Vediamo un po' Facciamo passare così Velocemente Le varie crescite Vabbè La maggior parte Dei vecchi ovviamente In realtà è peggiorata Però Mirindelli sta diventando Un signor terzino Ragazzi Un signor terzino Sissoko Peccato Il suo calo Incontrastato Inesaurabile Mi aspettavo forse Una crescita maggiore Di Kakari Che è andato in prestito Per giocare Per ora Un punticino Ho guadagnato Nella prossima stagione Abbiamo bisogno Di alzare un po' Il livello Quindi Vedremo Se magari Lasciarlo ancora in prestito Capiremo un attimo Ranocchia Sta crescendo bene Mi sta piacendo Mi sta piacendo Ranocchia A cui tra l'altro Gli do Piano di crescita Diverso Diciamo di fare un po' Da regista Così migliora Anche la parte Di passaggi E Sensi Tornerà all'Inter Bondo senza giocare Comunque una piccola crescita L'ha anche avuta Poi anche per lui Capiremo un po' Che destino Riserverà la prossima stagione Rovella Sempre più Importante Sta per diventare Cdc E si vede Anche in campo Più ordinato In fase difensiva Questo esposito Non vediamo l'ora Che diventerà Un titolare fisso Di questa squadra Già un 70 A 17 anni Questo può diventare Davvero una bestia Devo farlo crescere Sicuramente Sulla velocità Lo alleneremo Bene Pessina è il nostro capitano Molina partirà A fine stagione Anche Bogasta Per diventare Esterno sinistro Finalmente Dopo una stagione Intera E per la prossima stagione Dobbiamo puntare forte Su Marco Lasetic Va bene ragazzi Questa è un po' La situazione Come avete visto Ci aspettano Match Difficili Come quello con la Juve Per la prossima Giornata Per la prossima Puntata Però siamo Siamo lì Siamo lì A un passo Dal nostro sogno europeo Speriamo di riuscire A realizzarlo Così possiamo anche Fare un mercato europeo E lì servirà davvero Avere tante alternative Più di quelle Che abbiamo adesso Perché abbiamo Una squadra titolare Tutto sommato Non male Ma con tanti vecchi Che stanno calando Con qualche giovane In panchina Che non è a livello Dei titolari Quindi bisognerà Fare un lavoro Importante In fase di mercato Il prossimo anno Seguitemi In questo finale Perché ormai Manca poco Non so se riusciremo A finire la stagione Nella prossima puntata Ma a massimo Quella dopo Quindi manca pochissimo Quindi come vi dicevo Iniziate a scrivere Qualche nome Qualche consiglio Per la finestra Di mercato estiva E per il futuro In generale Di questo Monza Grazie a tutti Ragazzi Di essere stati con me Ricordate il like Ed iscrivervi al canale Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti